Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, allora, oggi facciamo i pronostici della nona giornata di Serie A. Allora, ci sono Sassuolo Inter, Benevento Juventus e Atalanta e la Severona di sabato. Domenica, Lazio-Udinese, Milan-Fiorentina, Bologna-Crotone, Cagliari-Spezia e Napoli-Roma. Lunedì, Torino-Sandoria e Genoa-Parma. Allora, ok, allora, io, andiamo con Sassuolo Inter. Sassuolo-Inter. Il Sassuolo gioca bene, gioca sempre bene. Il lavoro di De Zerbi sta facendo un ottimo lavoro, mentre l'Inter continua ad avere dei risultati negativi. Allora, io in questa partita, il Sassuolo è la bestiamera dell'Inter, questo è vero. Ma io adoro mettere gol. Sassuolo-Inter, gol. Segneranno Berardi e Martinez. Allora, Benevento-Juventus. Allora, Benevento-Juventus, secondo me... Ronaldo, ieri, ha deciso di non convocare Ronaldo per il turnover. Forse ha deciso Ronaldo di non giocare al Ciro Vigorito di Benevento. Allora, io in questa partita, Benevento-Juventus... Ci sarà il risveglio di Dybala, che ancora sta facendo risultati negativi? Eh, ci fidiamo al Cobra Morata. Poi Delicte mi sa che giocherà oggi. Allora, secondo me Benevento-Juventus giocheremo un bel due. Non dico da tifoso Juventino, ma... Certo, il Benevento è una buona squadra, può anche dare filo da torcere alle big. Certo, ha dato da filo da torcere il Napoli. Ha fatto due gol contro l'Inter. E ha perso le 5-2. Eh, non ha questa bella difesa il Benevento, quindi due. Mi piace. Atalanta e la Severona. Atalanta e la Severona. Allora, l'Atalanta viene da un grande successo contro il Liverpool. Che io non me lo sarei mai aspettato che vincesse ad Anfield in casa del Liverpool. Ma degli scontri diretti è svantaggiata l'Atalanta. Perché ha perso 5-0 contro il Liverpool. Allora, Atalanta e la Severona ci giocano un bel uno. Mi piace uno fisso dell'Atalanta. Lazio-Dinese. Lazio-Dinese domenica. Andiamo. Io dico che la Lazio può vincere contro l'Udinese. Sarà ancora decisivo? Ciro-Immobile. Segnerà su calcio di rigore. Allora. Uno della Lazio. Milan-Fiorentina. Milan-Fiorentina. Secondo me... dico... gol. Manca Ibraimovic quello del Minam. E non so se il Riveri giocherà per la Fiorentina. Io dico gol. Mi piace. Bologna-Fiorentina. Bologna-Crotone. Uno. Mi piace uno. Certo, il Bologna parte avvantaggiato sulla carta. Il Crotone viene solo con... viene da una sconfitta contro la Lazio, ma... non è una squadra che può salvarsi il Crotone. Io dico uno. Cagliari-Spezia. Cagliari-Spezia, secondo me... uno. Me la rischio. Cagliari-Spezia, uno. Certo, manca Nandez di Covid. Poi Simeone di Covid. Godin di Covid. Non so se sarà decisivo Joe o Pedro. Anche lo Spezia ha gli infortunati. Ha gli giocatori indisponibili. Quindi uno. Napoli-Roma. Napoli-Roma, secondo me... Allora, Napoli-Roma... Io ho giocato un bel gol. Gol entrambe. Il derby del Sud? Eh, può succedere di tutto. Adoro gol. Torino-Sandoria. Torino-Sandoria... E anche questa è una partita difficile. Certo, mancherà forse Belotti del Torino. C'è Quagliarella della Sandoria. Quindi gol. Mi piace. Genoa-Parma. Qua me la rischio. Genoa-Parma... Due. Me la... Una mossa molto azzardata. Stop! Questi sono i pronostici per quanto riguarda la nona giornata di Serie A. Allora, ricapitoliamo. Allora, rimane un gioco. Speriamo di vincere qualche soldino. E poi l'ultima cosa. Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Maradona e il pibe d'oro. Maradona è il dio del calcio. Un vero campione è stato. È morto a causa di un arresto cardiaco, poverino. Condoglianze a Maradona. Vabbè, ragazzi. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito che lasciate un mi piace. Di commentare qua sotto. Che pronostico avete fatto. Condividete anche il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. Stasera ci sarà il post partita di Benevento Juventus. E forza Juve! Ciao belli!